ciao a tutti amici rossonele non bentornati sul canale di briga il melanista allora ragazzi chi di voi ha seguito la live stasera ha visto più o meno come sono andate le cose è rimasto la mano in bocca è rimasto la mano in bocca perché siamo stati sempre in vantaggio alla fine ci siamo fatti raggiungere per un doppio errore per un doppio errore perché oggi ragazzi abbiamo patito questi calci ad angoli questi calci piazzati come diceva oggi con con gli amici come appena ho saputo la situazione di gigio donnarumma positivo al covid ho capito che avremmo sofferto determinate situazioni perché ragazzi badate bene il ruolo del portiere non è solamente quello di parare i tiri che arrivano in porta bensì è quello di essere leader di tutto un reparto perché abbiamo notato situazioni che con gigio donnarumma in porta non sarebbero nemmeno successe sarebbero andate a finire con gigio che prendeva la palla tranquillamente e ripartiva l'azione perché purtroppo ragazzi abbiamo un portiere in questo momento che è assolutamente fuori luogo il primo gol assolutamente scandaloso ma stu cazzo da tatarusano ma da dove avete uscito da beghiè ma dico io ma ragazzi ma il secondo portiere il secondo portiere non è il terzo il secondo portiere deve essere un portiere di tutto rispetto un portiere che deve dare affidabilità al ruolo perché ragazzi quando non giochi mai fai fatica fai fatica questo qui non faceva il titolare quando è arrivato al milan è venuto via da dove è venuto se non sbaglio da lione ma non giocava più titolare per un portiere giocare giocare è diverso insomma fa la differenza quindi questo non so da quanto tempo non giocava avamnet na kaket perché mi hai visto sul primo gol abbiamo preso il primo gol ok pace il pareggio invece della roma il pari tre è stato è stato diciamo un errore se così vogliamo dire di braimovic che purtroppo ha cercato di buttare via il pallone sul primo palo sempre su un calcio d'angolo la ciccata la svirgolata la palla è rimasta linea di rigore l'ha messa dentro con bolla per un pari tre del secondo gol del secondo gol non vogliamo nemmeno parlare non voglio nemmeno parlare perché mi direte voi il rigore inesistente ok l'abbiamo visto l'abbiamo assodato io in diretta ho sclerato perché quello quello non è mai rigore quello non è mai rigore ovviamente poi dopo l'hanno detto a sky l'hanno detto anche nel post partita ben a ser si mette davanti prende lui il pallone e addirittura pedro a fare fallo su ben a ser l'arbitro da rigore e non si sa per quale motivo non va a vedere al var non si sa per quale motivo non va a vedere al var non ascolta ciò che gli dicono allora ecco o non funzionano ragazzi allora io non riesco proprio a capire perché se dobbiamo vedere le partite se dobbiamo pagare per vedere le partite dobbiamo assistere a questo scempio dal punto di vista arbitrale non non ne vale la pena ce lo dovete dire non ne vale la pena perché se l'arbitro ha non ha avuto nessun cenno da parte del var è grave è grave non voglio pensare a male ma è grave allora se non funziona allora di guarda che qui non mi funziona l'auricolare non sento che cazzo mi dicono perché dare quel rigore è veramente assurdo assurdo tanto è vero che poi il rigore del successivo pari 3 3 a 2 scusate del milan è stato anche quello abbastanza ridicolo perché cialanoglu si è messo davanti l'arbitro ha fischiato il rigore sicuramente perché avrà capito che quello di prima non era assolutamente rigore prima di quel rigore là dato al milan ce n'era un altro dove mancini è andato a staccare con ibraimovic con il braccio largo e il pallone ha sbattuto sulla mano allora adesso siamo passati dall'anno scorso dove si davano rigori così regalati a chiunque per qualsiasi cosa anche se per sbaglio uno toccava il braccio toccava proprio se per sbaglio un pallone che la man si dava un rigore adesso non si danno i rigori con le mani neanche per il cazzo ma allora mi dite voi se non c'è mai una via di mezzo non riuscite mai a trovare una via di mezzo su questi cazzo di rigori non si può non dare quel rigore perché il giocatore stacca alto e la palla li sbatte sul braccio in quella occasione ibraimovic è stato ammonito arbitro oggi ha sbagliato tutto ammonizione a capocchia a destra e sinistra come se non ci fosse un domani adesso tanto bestemmio tanto già lo so che per l'ennesima volta youtube non mi monetizzerà la questo video perché sono gli ultimi due tre video che faccio non me li monetizzano perché magari esce qualche parola fra i post se volete una telecronica guardatevi i telegiornali guardatevi le partite guardatevi la televisione se volete guardare youtube dovete accettare che lo youtuber si in questo caso a one di ogni non mi potete rompere i coglioni che ogni volta che esce fuori una parolaccia una cosa non mi monetizzate il video ok quindi la chiudo qua perché gastemmio tanto lo stesso non abbiamo monetizzato e gastemmio che va a fare un gol proprio bella lega lega perché mi sono root non è la pizza non è diciamo così oh quindi ragazzi che cosa a dire parlando della partita parlando della partita abbiamo comunque trovato un pochino di difficoltà soprattutto per quanto riguarda il reparto difensivo perché come dicevo prima quando un portiere guida la difesa come lo fa gigio donnarumma la cosa cambia da la alla z ecco perché la grandezza del nostro portiere adesso adesso la state capendo ancora di più perché noi adesso oggi abbiamo preso tre gol tre gol di cui uno su rigore inesistente e due su due calci d'angoli quindi ragazzi badate bene a quello che vi sto dicendo perché fare il portiere come lo fa gigio donnarumma vale non so quanti punti in classifica ricordatevele queste cose quando magari succederà qualche errori qualche errorino che mi verrete ogni volta a sottolineare perché questo fa la differenza questo fa la differenza che altro dire voglio sottolineare la prestazione di rafael leao rafael leao che magari non sarà mai continuo per tutti i 90 minuti ma quando c'ha quegli strappi decisivi diventa decisivo così come lo è stato nel derby sull'assist per ibraimovic casa vuet d'angud ad ambrosio adesso oggi l'ha fatto sul contro la roma ha fatto una giocata straordinaria se non vado errato su karsdorp sua vuet d'angud ha messo una palla in mezzo stupenda per il nostro alexis selme kers che l'ha messa dentro perché anche lui ancora una volta si conferma un giocatore da mila un giocatore importantissimo alla faccia di tutta l'ironia che gli diciamo gli hanno fatto eccetera eccetera una partita comunque è difficile perché la roma è una squadra all'altezza della situazione ha dei giocatori davvero importanti degli interpreti davvero importanti purtroppo ripeto dovevamo fare a meno di alcuni giocatori importanti anche il nostro aughe sarebbe stato utile oggi alla causa perché un giocatore che può subentrare con quelle qualità non è assolutamente da mettere da far passare come una cosa qualsiasi un giocatore qualsiasi poi ragazzi che altro dire ai punti avremmo vinto noi avremmo vinto noi perché abbiamo colpito un palo con un simon kier con un colpo di testa che è andato sul palo sul calcio d'angolo abbiamo sfiorato il gol clamorosamente per due volte una volta con con il nostro che si che ha fatto un colpo di testa anche lui sul calcio d'angolo che non so mirante come cazzo ha fatto a parare sulla linea praticamente e poi nell'ultima azione all'ultimo minuto di gioco al 93esimo di gioco romagnoli ha colpito di testa ma la palla è andata sul fondo lì sarebbe stata apoteosi vincere 4 a 3 questa partita sarebbe stata davvero tanta roba però purtroppo ragazzi non si può chiedere sempre tutto insomma alla fine è andata così un pareggio con la roma ci sta la squadra ha comunque secondo me subito un pochino questa situazione covid a milanello perché noi parliamo del giocatore parliamo di donna roma parliamo di aughe ma ci sono tre dello staff che sono risultati positivi al covid ci sono ancora dei giocatori positivi vedi 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 gabbia se non sbaglio duarte ha recuperato e diciamo ha guarito dal covid però voglio dire la situazione covid a milanello è presente e sicuramente poche ore prima dalla partita ha pesato un po ha pesato un po che altro dire ragazzi la potevamo portare a casa questa partita qua la potevamo portare a casa con un po di fortuna oggi ci ha girato male il palo le occasioni sprecate un arbitraggio vergognoso perché è vero che il nostro rigore era anche quello magari molto molto generoso per non dire anche quello inesistente però ragazzi permettetemi di dirvi che se io sto 2 a 1 sto gestendo la partita in una certa maniera e tu mi dai un rigore di quel tipo sai le cose cambiano il milan ha avuto la forza di andare anche sul 3 a 2 però purtroppo purtroppo poi è finita è finita pari 3 con quell'errore sul calcio d'angolo e quindi c'è sfuggita di mano non fa niente nel senso che comunque ragazzi la partita non è stata persa lasciamo comunque un buon distacco dalle altre dalle altre dalle altre squadre restiamo primi e niente questo è quanto ho veramente voglio sottolineare un arbitraggio veramente vergognoso vergognoso fuori luogo è assolutamente diciamo ma criticabile da tutte le parti poi ho visto una serie di ammunizioni date a destra e sinistra veramente in maniera ridicola gente che andava a protestare per cose giuste che veniva ammonita Ibrahimovi ci ha munito per protestare su un fallo che Mancini aveva fatto con la mano ed è stato ammonito anche lui quindi tante cose che veramente non mi sono andate giù però però alla fine ragazzi è andata così è andata così ci vediamo sicuramente prossimamente il prossimo impegno sarà contro lo sparta praga quindi in casa contro lo sparta praga giovedì per l'europa league quindi sicuramente ci vedremo prossimamente nei prossimi giorni ovviamente non aspetteremo giovedì ma ci sentiremo insomma nei prossimi giorni ragazzi questo è tutto io vi saluto continuate ad iscrivervi al canale di Briegel Milanista condividete lasciate un like e niente ragazzi vi voglio bene forza lotta e vincerai non ti lasceremo mai ciao a tutti